Ehi tu! Sei stanco di aprire pacchetti su FIFA ma di non trovare mai nessuno? Allora passa da easyfifacoins.com e utilizza come discount, come codice e coupon il codice Axel con due Per avere, indovina che cosa? Un ulteriore sconto Potente a parlare ragazzi, qua Axel oggi, oh my god, oggi sono nella sole e sono qui a presentarvi un nuovo video Che ragazzi è un video fatto un po' di velocità, non in modo veloce ma di velocità Perché infatti oggi ho pochissimo tempo ma volevo appunto portarvi comunque un video Oggi sono qui a presentarvi la presentazione, possiamo così dire o meglio la prova in diretta di un Man of the Match uscito da pochissimo Man of the Match Luis Suarez pagato quanto? Ditemelo voi, 14.199.000 crediti Quindi veramente un macello, una cosa impressionante Ora non ho ancora visto il suo prezzo ma credo sia calato all'astriante del tipo che ne costa 10 Speriamo di no, comunque prima di iniziare volevo ringraziare come sempre per tutto il supporto che mi sta lugando Cerchiamo di far superare anche questi video 4.500 mi piace, anzi 4.537 4.537 a mani basse, molto modesto Quindi anzi lasciatelo già adesso, vi do 3 secondi Ora che l'avete lasciato possiamo anche iniziare come potete ben vederlo utilizzato per un 8 partite In 8 partite mi ha fatto 7 gol E la prima impressione che vi do è che secondo me non vale tutti quei milioni Perché infatti un giocatore che ti costa 14 milioni di crediti deve fare il caffè alla mattina e preparare la cena alla sera Lui non lo fa e quindi mi sta facendo torgere un po' il naso Guardate un po' che maglietta imbarazzante ho Andiamo a vedere la squadra del primo sfidante 83 di valutazione, 100 di intesa, 4.5-1 tedesca Tedesca, tedesca, tedeschen Quindi, eh, non deve essere così facile eh E subito quadrato che vede Suarez Su, 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 su Quadrato col tacco, madonna che gol ha fatto Quadratino, ci porta in vantaggio 1-0 al quarto minuto Ragazzi, posso dire che Suarez non è una bestia Ma quadrato è un fenomeno, veramente mi piace un macerchio Bella palla per Fellenni che vede Suarez Suarez controlla, Suarez solo contro il portiere Suarezsigno, 2-0 al sedicesimo minuto Solitamente sti gol me li sbagliava Quindi mi devo essere anche abbastanza contento Grandissimo Suarezsigno non sa cosa fare Suarezs, Suarezs passa in the middle Ancora palla per Suarezs No, ha fatto gol alla bastarda Ma chi se ne frega Volevo tirare, volevo fare la finta di tiro Però me l'ha passata Perché ho sbagliato a fintarla Comunque 3-0 Ottimo Suarezsigno è un doro Cioè, mai ha giocato così bene Poi ragazzi, vi voglio rendere complici Della mia debolezza No, della mia, come si dice Stanchezza psicologica Perché infatti Anche oggi Ho perso con un mio amico La schedina per una Cristo di partita Cioè, giochiamo due partite Perdiamo quelle due per una Vabbè Ne giochiamo 60 Ne perdiamo tutte quelle 60 per una Quindi veramente Sono stanco di far perdere ste robe Sono veramente arrabbiato Madonna Suarez Madonna Suarez Non perdere il pallone Non perdere il pallone Non perdere il pallone Suarez Non perdere il pallone Suarez Se li mangia tutti Anzi, se li morsica tutti E prendiamo traversa Madonna Palla per lui Incredibile Dai, ecco Quando fa ste cose Mi fa un po' arrabbiare Chi gol si è mangiato? È un rapace Palo È un rapace Fa cadere tutti Se li ha mangiati No Bella Bella sta boccia Bella sta boccia per Suarez Che controlla Suarez Lo scatta E mette la palla in rete 4-0 Lo stiamo arando Però Ecco Come dicevo prima Secondo me Non li vale ancora 15 milioni Perché Boh Non ha qualcosa Che i giocatori Costano così tanto Hanno Finire un'azione No Fallo E ragazzi Prima partita finita Abbiamo vinto 4-1 Beh Non c'è stato niente di che Suarez ha dimostrato Di essere un buon attaccante Ma Come ho detto Quei così tanti Che di chi non vale Prendiamo questa maglia Che è ancora più brutta Dai Gioca partita Vediamo il nostro Secondo sfidente 99 di intesa Vediamo Attenzione Lukaku Come ha fatto i match Come punta Fa male Si si Suarez Che vede quadratino Dai Dai Quadrato E di porca Di quella Bacca Sbagliato No sono un idiota Non posso essere così scemo Si poi questo C'ha una di quelle fortune Che il suo bambino Non ha nemmeno No ma perché No questa è una di quelle partite In cui Boh Fan delle robe Scandaloso Gliela passano Madonna No No C'è La perde così Col fisico Suarez Ma mordilo Ma mordilo Ancora Palla persa Oh Ancora Palla persa Vediamo Quadrato Per Suarez Vediamo se qua la mette E almeno qua c'è 4 a 1 Eh ma di dunque Non sia più Ricontabile Boh Vabbè Vediamo E ragazzi Partita finita Questa non posso dire Davvero la dominare Perché ho giocato davvero male Ma i miei giocatori Erano veramente scandalosi Comunque Vi volevo fare Una piccola Osservazione Se avete 15 milioni Da spendere Non sapete chi prendere Non prendetevi Suarez Ma prendetevi Assolutamente E il Kunaguero Valutato 88 Che lui sì che è un fenomeno Oppure se volete Lukaku Che come vedete Oggi mi ha fatto Ben 5 gol Ecco Lukaku Man of the match Che a differenza di Suarez Costa 400.000 crediti O forse anche 200 Comunque ragazzi Detto questo Perché il video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Faccio un po' di ginnastica Aia le mie dita E commentate Perché ultimamente Sto vedendo pochi commenti Mi raccomando Commentate Arriviamo a 4.500 Detto questo Io vi saluto Vi dico potente A fare il prossimo video Ciao a tutti